Zolo, dove sei? Io sono già pronto, andiamo? Eh amore, sto arrivando, un attimo! Dai, arrivo! Eccomi, eccomi! Dai, andiamo! Oh, casola, mi sono andata! Sì, però vai più piano, non fa una! Eh, visto? Siamo già arrivati! Eh, però, guarda che fila! Ma, tu non te lo togli il casco? È vero, mi devo fare i capelli, però mi piaceva così tanto, è rosa! Sì, ma guarda, io l'ho già tolto, non puoi entrare dentro la parrucchieria col casco! Mmm, va bene, me lo tolgo un attimo, mi aiuti? Sì, eccolo, tolto, va bene così? Sì, va benissimo! Ma, io non ho capito perché tu ti vuoi cambiare i capelli! Perché io voglio cambiare i capelli già da tanto tempo, non ti piace? Ma perché i tuoi capelli sono già bellissimi così! Grazie! Però andiamo, andiamo, dai, vediamo che è l'ultima fila, quanto costa! Andiamo! Ehi, hai, hai, hai! Scrivetevi un po' di foto. Ciao ragazzi, avevo sentito parlare bene della vostra parruccheria e visto che me l'hanno consigliata sono venuta qua oggi a fare i capelli. Avete posto liberi? Guarda, mi sa che c'è una ragazza che sta fuori con i cagnolini. Vuoi chiedergli se desidera di fare il servizio o vuole andare via? Però non saprei, mi sa che con i cagnolini devono andare in un parco a fare un giretto tra poco. Forse faccio un tempo a farti in realtà. Ma guarda che servizio è davvero molto molto bello e piacevole qua. Basta solo guardare i miei capelli. Guarda, guarda questa bellissima coda ai riccioli che mi ha fatto la Madame Fiki. Dov'è questa ragazza? Ah, eccola! Così che fia non va lì? Ah, scusami, Salve, scusami che ti ho disturbata, ma volevo sapere se tu sei l'ultima di là per i capelli. Sì, però mi sa che tra poco vado via, devo portare i miei cagnolini a fare un bagnetto. Quindi puoi prendere il mio posto, tanto sono l'ultima, non c'è più nessuno. Ah, ho capito, è quel ragazzo seduto sull'altro divanetto? Ah, quel ragazzo, mi sa che aspetta il ragazzo che sta già dentro. Quindi prendo il mio posto, vado via io. Ma quanto ci mette ancora lei? Mamma mia, sti conchieri, quanto sono lenti. Dai, ancora due minuti, un attimo, me li devo asciugare o no? Arrivo! Ma che belli cagnolini che hai, sono tutti due tuoi? Sì, tutti due miei, infatti vogliono andare a fare il bagnetto, quindi vado via. Ciao, ciao, io vado. Scusami, scusami un attimo, ma ci sei dimenticata te, Lai Pa? Oh, è vero, mi sono dimenticata, grazie. Oh, io ho finito, grazie mille. Uh, io ho fatto. Dai, andiamo via, finalmente è finito, non ne potevo più. Uh, sì, sta arrivando, dove mi metto? Mettiti sulla sedia che arrivo, sono pronta. Questo è l'asciugamano, così non ti si bagnano le spalle e la maletta. Oh, grazie, è gentilissima. Figurati, è il mio lavoro. Allora, che colore volevi? Ti faccio vedere che colori ho. Questi sono i miei colori, scegliene uno che ti piace. Va benissimo, i colori bellissimi, quelli che hai scelto. Adesso però ti devo lavare i capelli, sei pronta? Sì, sono prontissima, va bene. Lavameli, una vedo l'ora. Mi piace, mi piace il profumo di questo shampoo. Sì, è un shampoo molto, molto buono, sta di mertillo. Ecco, io ho finito con il shampoo. Adesso ti massaggio un po'. Ah, ma quanto sei brava, starei ore e ore qui. Basta così? Mi piace, mi piace questo colore. Non vedo l'ora di vedere com'è. Hai messo tanto rosa? Certo, come te desideravi. Guarda, ti faccio vedere com'è. Ma ti manca ancora tanto? Non è ancora finito? Io voglio andare via. Sì, quasi finito, vero? Certo, certo, due minuti e te la lascio andare. Va bene, dai. Ancora due minuti. Wow, ma che bel colore, mi piace tantissimo. Amore, arrivo. Grazie mille, ciao ciao, alla prossima. Amore, vuoi vedere i miei capelli? Sì, vai a vedere, vuoi vedere che bel colore che fa. Io giro. Wow, che bel capelli, che bel colore. Ma è rosa. Oh, sono così felice, così piaccia. Andiamo? Sì, andiamo.